Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'interno del Controtransfert, il silenzio di Giocasta all'interno delle figure del femminile, che è un titolo che io, devo dire, ho rubato ad Amalia Giuffrita per i nostri incontri del Cinema Trevi, perché è un titolo molto suggestivo. Anche a Spoleto abbiamo utilizzato questo titolo, le figure del femminile. E poi sul tema odierno vi dico soltanto questi lavori. Travestitismo e transessualità. Che cosa è cambiato? Nel 1999. Nel 2001 il genere sessuale unico, che è stato edito dalla nostra rivista di psicoanalisi psiche. Poi nel 2006 le omosessualità nascoste all'interno del titolo Dilemmi dell'identità. Un altro grandissimo tema di questa sera dunque. Per finire, all'interno delle dinamiche controtransferali intorno al tema della perversione. Dunque, come capite, Amalia Giuffrita si occupa veramente in modo anche diretto per la sua esperienza importante, credo anche carceraria, credo, di tutta una serie di tematiche molto vicine al tema di questa sera. Si interessa fondamentalmente di clinica psicoanalitica, di epistemologia della psicoanalisi e soprattutto della psicosessualità sul versante femminile anche nel rapporto all'istituzione. Io la ringrazio molto di aver accettato di essere stasera con noi. Io lascerei a lei la parola. Poi magari sentiamo sia il regista, poi anche e soprattutto Enrico Magarelli. Grazie. Funziona? Sì. Allora, intanto vi do una prima associazione, un po' banale forse, no? Ho pensato subito a Genova, ho pensato a Fabrizio Di Andrè e la prima frase che mi è venuta in mente è stata «Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, no?» Mi si è chiesto stasera di parlare di nuove identità di genere. Vabbè, voglio però dire due parole su questo film perché è un film, secondo me, che è un atto di poesia pura, che però ti colpisce lo stomaco. Ed è un film, in un primo tempo mi sono detta, ma veramente non ha molto a che vedere con le nuove identità sessuali, o con le nuove identità. Poi, alla fine del mio percorso, vedrete che invece ho recuperato un po' quest'altro significato del film, ma non ve lo dico adesso, ve lo dico dopo. Intanto stavo pensando invece che era un film, ecco, la prima cosa che mi è venuta in mente è che era un film che trascendeva le soggettività, era un film sull'amore, no? Pensavo molto al personaggio, anche mi faceva pensare, sempre per associazioni un pochino, al personaggio di Almodovar, non so, vi ricordate il transessuale che era il padre del ragazzo che muore? Allora pensavo come di fatto, no? L'amore trascende, no? Va oltre la soggettività. Lì avevamo davanti un padre che era addolorato per la morte del figlio. Qui abbiamo due esseri umani che riescono a realizzare qualcosa che assomiglia molto all'amore, o perlomeno a quello che noi pensiamo dell'amore. Mi ha molto colpito anche il titolo del film, infatti poi chiederò, forse il regista qualcosa dirà, io dirò le mie fantasie su questo titolo. So bene che è stato, almeno ho letto il librino che accompagnava il film, si faceva riferimento al romanzo di Remigio Zena, che è un verista, che parla di Genova e che descrive Genova in varie sfaccettature. Io invece ho pensato che questo titolo, in fondo il regista ci volesse introdurre in una situazione già enigmatica, ambigua, perché il lupo in fondo è il simbolo del travestitismo. Il lupo di Cappuccetto Rosso si traveste, il lupo dei tre porcellini e il lupo, poi pensiamo al famoso uomo dei lupi, e all'importanza che ebbe il lupo nella storia dei sette capretti, che riuscì ad entrare grazie al fatto che si travestì da capretto. E allora pensavo a questa dimensione del lupo come simbolo del travestitismo, simbolo del pericolo, però nello stesso tempo anche come personaggio sempre vinto, nelle favole il lupo è sempre fatto fuori, il lupo muore sempre, non sopravvive mai. E quindi ho pensato a questa atmosfera che il regista ci voleva già, come dire, forse donare, attraverso questo titolo. Mi sono detta in bocca al lupo, probabilmente, perché questo film fa dire in bocca al lupo, nel senso che se riusciamo a entrare in questa bocca del lupo, vediamo cosa succede. Enzo e Mary sono sicuramente l'uno allo specchio dell'altro, insomma, mi colpisce moltissimo tutto quello che Enzo dice, tutto quello che Mary dice. Enzo dice a un certo punto, no, canta, anzi, noi siamo una cosa sola, no? Ma non solo questo. Enzo e Mary sono il doppio l'uno e il doppio narcisistico dell'altro. Pensate, Mary si traveste da donna, Enzo è un travestito pure lui. Enzo si traveste, Mary lo dice, no? Si mette la maschera, lui sotto la maschera dell'uomo, duro e prepotente, di fatto c'aveva una gentilezza e una sensibilità. Era quasi un bambino, dice, ha la delicatezza di un bambino, pensare che si è messo a piangere quando ha visto il film di Babby. Allora, questo mi fa pensare che Enzo, no? Ha vissuto, non riesco ad aprirlo. Se ho male a una mano, no? Quindi, Enzo, ecco, c'è un'altra cosa molto interessante. Si parla di un padre di Enzo, ma non si parla di una madre. Anche in questo penso che c'è un artificio, non so quanto voluto dal regista, però tale risulta, c'è una madre assente, non compare. Questa madre che non compare mi fa pensare proprio come dire a una madre che ha disinvestito il proprio figlio, cioè non c'è proprio, no? C'è soltanto l'immagine della Madonna col bambino al quale Enzo si rivolge, no? Un anelito verso la fusione che condivide con Mary. La madre non c'è, c'è solo in queste due evocazioni, evocazioni, nel silenzio assoluto sulla sua presenza, che è un'evocazione, e anche però quando appunto Mary dirà mi sono innamorata di lui quando ha pianto per bambi, no? Bambi la mamma muore, no? Quindi c'è questa, diciamo, questa vicenda dove questi Mary vede in Enzo la sua sofferenza ed è lì che si innamora di lui, scopre che è travestito come lei ed è lì che si innamora di lui, no? E Enzo vede in Mary forse l'adorazione di una madre fallica, l'accettazione assoluta, probabilmente Enzo che non era stato guardato, che era stato usato nella sua infanzia, andava a portare le cose, andava a portare le pistole, andava a portare il padre. E questa storia, ovviamente io alle Bibbie ho visto tante, tante storie, nessuna di queste è finita così, no? In genere sono storie che finiscono presto, che finiscono alla prima carcerazione, sono storie che finiscono per la vergogna, che finiscono per tutta una pressione dell'ambiente. E questa happy end, anche se molto malinconica, perché è molto malinconica, tutto sommato ci sorprende, insomma, questo sentimento così forte, no? Che è così insolito, che è riuscita a guarire i due personaggi, lei dalla droga e lui in fondo dalla delinquenza, no? Quindi è una qualche cosa che veramente è insolito, cioè non è, non appartiene all'esperienza di tutti i giorni. L'esperienza di tutti i giorni, insomma, mi si è chiesto di parlare di queste nuove identità, questo io lo trovo un compito abbastanza spinoso. Perché spinoso? Perché da una parte ci sono sempre due tendenze quando si parla delle nuove identità. Da una parte quello politically correct, no? Ci fa dire, ah, che meraviglia, insomma, si esulta davanti a tutto questo, perché sembrerebbe che siamo di fronte all'espressione di una grande libertà. Dall'altra parte ce la condanna. Ovviamente la psicanalisi non si situa né dall'una né dall'altra parte. La psicanalisi osserva, forse vigila, forse ha uno sguardo critico, critico nel senso di osservazione, no? Una cosa si può certamente dire, che oggi queste nuove identità hanno, come dire, un'espansione grande nella nostra civiltà, nella nostra cultura e sono anche fonti di grande attrazione. Stavo pensando che sono proprio, sono capaci di muovere proprio il desiderio, no? Vi do come esempio, ma ne avrete sicuramente tanti, solo due, ve ne do solo due. Uno è l'aspetto, come dire, pubblicitario massmediatico e l'altro è l'adolescenza, no? Vediamo moltissime pubblicità ormai e dobbiamo affinare la nostra sensibilità e la nostra attenzione per non renderci assuefatti a questo fenomeno. La pubblicità affida la reclamizzazione di qualche prodotto all'ambiguità di genere. Faccio un esempio per tutti, quello di un noto liquore, non so, tutti lo ricorderete, in televisione, dove una fascinosissima lei si trasforma in un lui e dove un lui fascinoso altrettanto si trasforma in una lei, no? Vabbè, poi basta aprire tutti i talk show, tutte le varie cose che abbiamo proprio esempi a non finire. L'altro esempio è l'adolescenza. L'adolescenza perché? Perché probabilmente è proprio un vertice osservativo privilegiato per vedere queste cose. agli adolescenti spesso viene chiesto, no? Cosa sei? E invece si trova un atteggiamento anche abbastanza, come dire, un po' sprezzante, no? Verso l'eterosessualità che è considerata un limite banale. Di fatto viene esaltata la bisessualità, no? Si dice sempre, ma io sono innamorato, spesso, insomma, non sempre, sono innamorato della persona, non mi interessa se sia maschio o femmina, no? Ci sono moltissime, moltissime interviste di questo genere. La bisessualità. La bisessualità sicuramente appartiene a un fantasma, appartiene al fantasma dell'androgino, dell'identità e del corpo che ha tutti gli attributi, no? Maschio e femmina, al narcisismo primario, o pensavo a quello che scrive, probabilmente lo conoscete tutti, questo libro è un libro molto bello, quello di Marjorie Garber che scrive Interessi truccati, non so se l'avete visto, insomma, è un libro estremamente interessante che dice giustamente che la bisessualità, ok, il terzo, colui che non si iscrive né nel registro femminile né nel registro maschile che quindi rompe, scompiglia la logica binaria, no? La logica binaria, ce l'ha o non ce l'ha, in fondo è creatore di cultura, perché rompe con gli stereotipi, perché in fondo rilancia, enfatizza proprio la visionarità umana, l'immaginazione umana che è capace di rompere qualsiasi schema, che è capace di rompere lo schema, gli schemi anatomici, gli schemi sociali, no? La cosa che io direi è che oggi tutto questo mi appare più problematico, perché? Perché quando i persuasori occulti si impadroniscono, diciamo, della trasgressione, io sono sempre molto diffidente, cioè penso che la trasgressione e la cultura alternativa perde, perde nel senso che diventa anche quell'omologazione, no? Allora oggi ci si dice come dobbiamo vivere, ci si dice come dobbiamo trasgredire e quindi la trasgressione perde molto di quel suo anelito, diciamo, no? Libertario. E quindi, insomma, questa è un po' l'idea della bisessualità, però dalla bisessualità sicuramente il punto di partenza. Ecco. Allora, pensavo di descrivere, se volete, non so se ho il tempo, sì, ce l'ho il tempo, di descrivere quello che classicamente Stoller, uno psicoanalista americano degli anni 50-60, non so se lo conoscete, però tutti i lavori che poi si sono occupati di questo problema fanno ancora tutti riferimento a questo lavoro, a questi lavori, perché sono, diciamo, forse tra i primi lavori che sono stati scritti su questo tema. Stoller negli anni 60 studiò a fondo quello che lui chiamava le disforie di genere, quelle che si chiamano ancora le disforie di genere, e fece una netta distinzione tra travestitismo e transessualismo. Allora, il travestito per Stoller è un individuo che non è per forza assolutamente omosessuale, che anzi, molto spesso è eterosessuale, che feticizza gli abiti femminili, e lui lo spiega da un punto di vista psicoanalitico dicendo che sono in genere quei fanciulli che hanno vissuto con un gruppo di donne che odiava, diciamo, che voleva castrare gli uomini, che odiava gli uomini, e quindi il bambino, per proteggere la propria virilità, ha dovuto, come dire, trovare queste scamotage, no, di travestirsi da donna. Un esempio famoso per noi è la Bédeuxoisy, la Bédeuxoisy che vista i tempi di Luigi XIV, non so se ne avete, penso di sì, che ha scritto anche poi le sue memorie, no, che sono, mi pare, memorie di un abate travestito da donna. la Bédeuxoisy che adorava vestirsi da donna con i nei, con gli orecchini, con dei vestiti meravigliosi e che era un grande seduttore per cui tutte le madri gli portavano le fanciulle e lui regolarmente le seduceva, no, era proprio eterosessuale al massimo. Vabbè, e invece, e beh, questo per quanto riguarda quindi i travestiti secondo Stoller. I transessuali, invece, dice Stoller, sono delle persone che pensano di essere nati in un corpo sbagliato e di fatto queste persone spesso stanno meglio se gli si dà una terapia ormonale e spesso anche l'assegnazione chirurgica di genere, di genere inverso ovviamente. E questo per quanto riguarda diciamo l'aspetto proprio classico. Ecco, io posso dire oggi che queste due categorie non esistono più. Queste due categorie si sono mescolate in mille forme, hanno dato vita proprio a dei gruppi estremamente sfumati, l'uno sfuma nell'altro, non so, abbiamo i transessuali, vabbè, i travestiti, i cross-gender, i trans-gender, tutti ne avrete sentito parlare, è inutile in mente a fare la lista. Però, insomma, credo che abbiano tutti qualcosa poi in comune, cioè forse io posso parlare meglio del transessuale perché maschio, il transessuale e donne è tutta un'altra storia, non ne parlo perché secondo me appartiene ad un'altra situazione fantasmatica, mentre il transessuale uomo mi sembra che possa considerarsi, come dire, la radicalizzazione di un fenomeno, di fenomeni che affondano le loro radici tutte nello stesso tessuto, diciamo, fantasmatico. quindi che cosa, chi abbiamo davanti, posso descrivere brevemente il gruppo, è molto simile a Mary per certi versi, Mary mi sembra invece appartenere più al transessuale più sovversivo, oggi c'è un po' più una massificazione di certi, anche in loro, di certi stereotipi, comunque, abbiamo davanti delle persone che di fatto rifiutano l'operazione di trasformazione, di assegnazione chirurgica dei genitali e che invece cercano con grande frequenza invece la chirurgia plastica, continuamente modificando il loro aspetto, modificando gli zigomi, mettendo degli innesti di silicone, a volte di cera, perché liquida, a volte anche di queste cose un po' strane, e questa continua trasformazione del corpo in fondo ci può anche far pensare come ad una impossibilità reale di trasformazione totale, perché sono comunque uomini che non potranno internamente ovviamente che di fatto non potranno diventare donne, cioè come la continua trasformazione del corpo sta al posto della trasformazione che non potrà mai avvenire del tutto, un'altra evocazione è anche come dire l'introduzione e il naziusismo di Freud, Freud quando parla delle belle donne, quando dice le belle donne sono molto assimilabili al fallo paterno, quindi questa ricerca della perfezione, della bellezza, c'è una intervista che purtroppo non è stata vista del film stasera dove l'amica di Mary che si vede un attimo e viene inquadrata dice noi dobbiamo diventare sempre più belle, è importante che noi diventiamo sempre più belle, bellissima, le interviste del film sono bellissime, peccato che non sono state diciamo proiettate, quindi sono delle persone diciamo che continuamente modificano il loro aspetto, sono spesso dedite ad alcol e anche droghe pesanti, sono aggressive, molto aggressivi, auto ed etero aggressivi e di fatto quello che per Stoller è solo un incidente di percorso, cioè la prostituzione viene praticata, cioè perlomeno viene praticato qualcosa che ha come controparte lo sguardo maschile, cioè lo sguardo maschile che anche attraverso la prostituzione deve dare loro un'identità, deve dare loro come dire il senso di essere. non voglio tanto intrattenervi sulle cause, sulle cause diciamo singole, perché di fatto queste generalizzazioni per noi psicoanalisti sono già abbastanza difficili da fare, allora se ci sono, è vero, ci sono delle linee di tendenza per esempio nelle famiglie, certe relazioni familiari, però secondo me sono sempre delle cause necessarie ma non sufficienti. Le scelte di percorso di una vita, questo vale per tutti, non sono mai inquadrabili in un determinismo stretto, a volte neanche tutta un'analisi riesce a ricostruire una parte della storia di un individuo e però le storie sono necessarie nell'analisi, però a parte questo anche se ci sono delle, come dire, appunto delle costellazioni relazionali, non so, una madre vittima, un padre padrone, spesso un abuso da parte di un adulto, non le voglio neanche troppo dire perché, ripeto, sono necessarie ma non sufficienti per spiegare la patogenesi, insomma, o comunque non parliamo di patogenesi perché è l'origine di queste scelte di vita. Di fatto una cosa è certa, che malgrado facciano delle vite molto difficili, e Mary lo ha detto, non è mica difficile il carcere, è difficile la vita, malgrado poi ci siano questi cambiamenti sociali, no? Quindi tutto è più accettabile, accettabile, fanno tutti delle vite molto difficili, però nessuno di loro mi ha mai detto di essersi pentito di questa scelta, l'unica cosa che mi hanno detto è che non avrebbero mai voluto che un figlio o una figlia eventuale, perché alcuni hanno anche dei figli, facessero la loro stessa scelta, questo mi sembra molto importante. La mia ipotesi, qual è la mia ipotesi? La mia ipotesi è che oggi, torniamo, e il transessuale è un po' il simbolo elettivo vivente di quello che si può chiamare una spinta verso l'indifferenziato. Il transessuale è ricercato perché è l'incarnazione di un narcisismo senza scalfiture e di un'onnipotenza senza cesure. L'indifferenziato secondo me da che cosa dipende? dipende dal fatto che malgrado tutto, malgrado la potenza dell'uomo, l'uomo si sente sempre più impotente, proprio stretto in una vita in cui non ci sono soltanto appunto come un tempo, la natura, la natura interna, quindi tutti gli aspetti interni e esterni, ma addirittura anche le sue stesse produzioni, come se si fossero rivoltate per contro di lui per aumentare questa sua impotenza. Penso per esempio alle tecnologie che lo hanno spodestato anche del pensiero, che lo continuano a spodestare, che diventano invasive, penso all'economia oggi come oggi, insomma penso a tantissimi fattori, quello che noi chiamiamo i nuovi disagi della civiltà, questi nuovi disagi della civiltà che di fatto cosa creano? Creano sicuramente un rafforzamento del narcisismo. Vi faccio presente che nell'ultimo DSM-5 che è stato fatto ultimamente, la patologia narcisistica, i disturbi narcisistici di personalità sono stati depennati perché sembrerebbe per la loro grande frequenza. Questo forse non significa nulla, però secondo me da un altro punto di vista significa molto, cioè significa come l'immaginario sociale sta cambiando rispetto a tutti questi temi. Quindi da una parte abbiamo l'indifferenziato e poi voglio leggervi una citazione di Benzaiag Schmidt che dice la nostra epoca è passata dal mito dell'onnipotenza dell'uomo costruttore della storia ad un altro mito simmetrico e speculare, quello della sua totale impotenza di fronte alla complessità del mondo. Complessità del mondo come ho detto prima è dovuta anche a tutti questi fattori che spodestano l'uomo della sua centralità e anche poi da quello che noi chiamiamo le nuove patologie dell'anima cioè dal fatto che questo esterno preme talmente soprattutto sui bambini che di fatto è difficile costruire uno spazio mentale dove poter elaborare l'angoscia dove poter elaborare i conflitti e che quindi molto spesso invece di creare tessuto sociale l'angoscia e i conflitti si riversano sulla realtà diventano atti diventano comportamenti senza creare proprio tessuto mentale questo è un po' uno dei problemi della nostra della nostra epoca quindi noi abbiamo questo questo tipo di meccanismo che ci può portare a dire che e questo lo diciamo da parecchio tempo noi psicanalisti che l'edipo che è il grande organizzatore simbolico delle passioni umane l'edipo sta per essere soppiantato da altri miti ora l'edipo era ciò che ha da sempre ha organizzato le passioni umane da quando l'uomo ha avuto una pensabilità è qualcosa che ha stabilito le differenze le differenze di genere le differenze di generazione l'entrata nel tempo quindi la irreversibilità del tempo il passaggio dal tempo circolare dell'eternità al tempo lineare al tempo dell'esperienza al tempo della cesura che c'ha una fine c'ha un inizio e una fine quindi il mito di edipo sta cedendo il posto ad altri miti i miti forse dionisiaci possiamo pensare miti dionisiaci di cui io credo la grande rappresentazione oggi attuale è pensateci bene il vampiro il vampiro di cui è piena la produzione cinematografica abbiamo tutte queste saghe piena anche la letteratura il vampiro che non si rifrange nello specchio quindi è il negativo di Narciso ma a che vedere con l'ambito narcisistico il vampiro che proteiforme come Dioniso che cambia aspetto che cambia che è bisessuale perché succhia il sangue a uomini e donne spesso diventa anche lui uomo-donna non si sa perlomeno nelle raffigurazioni classiche il vampiro è questo il vampiro è uno sferatu né vivo né morto non conosce la fine non conosce l'inizio è fuori dal tempo quindi è proprio molto vicino sia a Dioniso ma è anche trasformato ed è tanto più trasformato oggi proprio mi pensavo e mi interrogavo su queste ultime declinazioni di questo mito del vampiro se ci pensiamo queste saghe varie che escono ogni tanto ne ho vista qualcuna proprio per questo motivo perché mi interessa come il vampiro sta diventando un personaggio buono in certi film il vampiro che si astiene dal succhiare il sangue alla sua bella ecco il vampiro non ha oggetti il vampiro utilizza l'altro lo utilizza per vivere il vampiro classico adesso invece il vampiro si innamora si astiene questo mi fa pensare di nuovo all'astenzione dalle pulsioni qui ritorniamo allora cosa significa questo vampiro che si trasforma significa che stanno tentando di come dire assuefarci anche a questa immagine del vampiro di farcelo accettare di più oppure significa anche che non si voglia tornare in qualche modo all'edipo cioè qualcosa che è uscito dalla porta che ritorna dalla finestra no la grande domanda comunque è se l'edipo era un organizzatore simbolico potente delle passioni umane delle nostre vite questi nuovi miti hanno questo potere? me lo chiedo e allora poi la domanda fondamentale è l'inconscio e trasformabile i fantasmi originari possono mutare questo mi sembra l'aspetto più importante a cui noi dobbiamo pensare una cosa è certa non è consolante ma è certa che di fatto anche questo vivere senza limiti di cui si parla tanto di fatto non consola cioè non si è più felici a volte perché si vive senza limiti sto pensando sempre a queste vite di cui vi dicevo appunto il trans che diventa da una parte il simbolo dell'androgeno perfetto e dall'altra parte però il capo espiatorio di questa ideologia dove in queste vite io mi chiedo sempre come mai c'è così tanto dolore perché c'è questa ricerca così attiva del dolore Freud diceva che per vivere per il prezzo da pagare alla cultura e il prezzo da pagare al nostro vivere in comunità era molto alto perché dovevamo rinunciare agli istinti alle pulsioni veramente e oggi appunto di fatto si pensa che alle pulsioni non dobbiamo rinunciare però la situazione non sembra mutata in meglio e qui voglio tornare al film e voglio tornare prima di finire a questa riproposta a questa lettura che mi è venuta poi proprio sviluppando questo tema di cui adesso vi ho appena parlato e ho pensato a quella voce narrante che ci dice che i nuovi abitanti delle caverne e qui caverna non può che evocarmi anche il mito platonico l'illusione no? Winnicott direbbe l'illusione quindi dice i nuovi e mi piace questo nuovi i nuovi abitanti delle caverne sono uomini che trasmutano allora ho pensato che questa potesse essere no? una metafora dell'umanità attuale assegnando poi a Enzo il compito assegnando a Enzo il compito di essere un loro rappresentante no? questi abitanti delle delle caverne questi nuovi fanciulli impotenti no? l'umanità che travestiti da lupi cattivi che affidano poi la come dire la loro impotenza a questa imago dell'androgeno perfetto che di fatto poi li riporta a questo tutto Enzo in fondo è un uomo è un uomo comune è l'uomo comune che attualizza che concretizza il suo sogno di onnipotenza nel mito dell'assoluto primordiale dell'assoluto originario questo è quindi come a recuperare questo significato che mi sembrava così lontano che invece ho trovato così vicino a quello che è invece la condizione attuale recuperare questo bellissimo significato del film certo questo mito poi alla fine come si traduce si traduce anche qui quello che esce dalla porta in fondo sembra ritornare dalla finestra una casetta i cani una vita tranquilla semplice in fondo un sogno stereotipato un sogno banale quindi dopo questo lungo percorso ritroviamo questo e allora io mi chiedo mi chiedo ma l'umanità avrà le risorse per combattere per far fronte a questi mutanti interni e esterni oppure perché no siamo di fronte a una mutazione antropologica in fondo evolutiva per l'avvenire della nostra civiltà io sospendo il giudizio grazie grazie amalia giufrida allora non so se Enrico vuole dire qualcosa a fare delle domande anche magari no magari buonasera come sempre no forse Pietro ha voglia di dire delle cose oppure ti girerei un paio come vogliamo andare ti chiedo delle cose no partiamo allora proprio da due questioni che venivano sollevate il titolo anche io non te l'ho mai chiesto perché è bello è bellissimo non ti sentiamo il titolo cioè diciamo è stato alquanto problematico trovare il titolo a questo film perché da una parte c'era il desiderio di raccontare Genova ma anche di raccontare questa storia privata quella di Enzo e Mary dicevamo veramente il titolo doveva essere Ad Genua Ad Genua in ginocchio che poi le ginocchia sono un po' anche la forma del golfo di Genova solamente che era uscito il film di Winterbottom diciamo l'idea fu di la bocca del lupo perché un po' Enzo è un po' un lupo e poi non è tanto così brutto finire nella bocca del lupo ma la bocca del lupo sono anche le grate del carcere le finestre a bocca di lupo come la bocca del lupo è anche la forma del golfo di Genua a volte è chiamata anche così e anche per ricordare questo per citare questo romanzo di Remigio Zena alla fine è stato scelto questo il titolo è stato molto vabbè che però ha molti significati ha molti significati voglio solo dire che è vero che guardando il film l'ho detto anche a Fabio soprattutto c'è un profilo di Enzo a un certo punto che è al buio è vero che ha il profilo di un lupo è molto vero non l'avevo fatto vabbè c'è sempre vabbè un film va sempre interpretato io sono la persona meno adatta per avere un giudizio di quello che faccio invece resto molto affascinato ad ascoltare gli altri quello che raccontano del film perché poi un film si fa qualcosa di veramente è alchemico però anche qualcosa di materiale scegliere un titolo bisogna scegliere un titolo stai lì per settimane che devi scegliere un titolo quindi poi diventa un'altra cosa infatti come dicevamo la prima sera prima di vedere il film il filmuto dopo non me lo ricordo poi tutti i film per fortuna mettono in moto una quantità di pensieri anche molto velocemente o di ricordi anche di ricordi non non personali e quindi l'altra cosa che veniva fuori la madre di Enzo dove stava? c'era non c'era nella sua vita? gliel'hai chiesto? lui non ne ha voluto parlare? ma la madre di Enzo cioè lui mi ha parlato della madre ma in particolar modo mi ha parlato sempre del padre non è caso nel film c'è un fotogramma del padre c'è un fotogramma che dura pochissimo che si vede questo pippo era il padre di Enzo e tutti a Genova conoscevano Pippo perché era un un contrabbandiere di pre del quartiere pre che tutti conoscevano anche per questa voce roca che aveva come Enzo diciamo Enzo grande Pippo piccolo era abbastanza somigliava abbastanza al padre e diciamo lì è cresciuto con il padre più che con la madre senti in parte hai risposto prima però non è facile incontrare dei film in cui c'è un una riflessione sul sul materiale di repertorio e soprattutto la capacità poi di far vivere questo materiale di repertorio con le immagini che sono secondo me bellissime Pietro sa cosa penso e quanto penso bene del suo lavoro quindi adesso non è che sto a ripeterlo qui ad alta voce di fronte di fronte a voi mi piace molto il lavoro che fai so che è stato un lavoro molto laborioso e lo so perché la prima volta che ho visto il film insieme a un'altra minuscola squadra eravamo giugno luglio non mi ricordo preparando un festival di Venezia avremmo voluto quel film a Venezia quando il vecchio gruppo lavorava lì però mancavano ancora mancava molto materiale di repertorio lo stavi cercando lo stavi scegliendo e soprattutto poi volevi me ne siete resi conto il materiale di repertorio non è qualcosa che sta lì appoggiata buttata perché uno non sa dove metterlo è molto meditato tanto che anche la coda della Technicolor che non c'entra niente con il tuo film tutti quanti eravamo molto incuriositi a guardarlo ci racconti un po' la fatica la ricerca che tipo di repertorio e perché abbiamo capito che Genova insieme a me di Enzo è così credo che tutta la genovesità del film è all'interno di questi repertori perché i repertori sono questi repertori provengono dagli archivi di famiglia di vecchi cinematogi genovesi che hanno raccontato la propria città e un applauso l'ha fatto alla montatrice che tra l'altro quando ha montato questo film aveva 27 anni ed è stato il suo primo montaggio che è Sara Fkaier e diciamo i repertori li ha cercati tutti lei io davo delle indicazioni ma sono stati cercati nei luoghi più disparati nelle cantine le soffitte erano materiali superotto ci sono anche materiali non conformati nove e mezzo per esempio gli ultimi materiali che vediamo sono mi sembra del 17 no del 17 era ancora prima ora non mi ricordo bene comunque materiale molto vecchio perché non avevamo soldi per acquistare materiali a luce o in altri posti e visto che nessuno di noi era genovese il modo migliore per raccontare Genova era attraverso questi repertori anche la testimonianza di questi repertori questo film è molto amato dai genovesi probabilmente perché all'interno del film c'è anche un'anima genovese quella dei dei cinematori che hanno raccontato Genova nel novecento e probabilmente questo film ha avuto questa gestazione è stato come dire probabilmente anche perché aveva un budget molto basso ed è stato realizzato da poche persone che c'è stata una grossa tenacia e un amore anche per realizzare questo film perché diciamo a differenza del mio film precedente questo film un po' l'ho sentito un po' come un film su commissioni i gesti mi hanno chiesto ad andare a Genova noi ci siamo trasferiti a Genova e io mi sentivo un po' meccanico per me l'obiettivo era di riparare questa macchina il migliore dei modi poi il film ha vinto un sacco di premi ha viaggiato veramente tanto però nessuno di noi si aspettava anche è un po' per noi l'obiettivo era di di fare un buon lavoro poi cioè non è più può proprietà per me il film era il mio film fin quando stavo ancora lì al montaggio al messaggio poi per esempio io ascoltando lei ora mi sento ancora più confuso di prima mi sento ancora più confuso di prima perché ognuno dice la sua sul film allora questo mi rende ancora più confuso perché per me il film è stato ben altro cioè per esempio io non ho mai considerato così tanto l'aspetto sessuale di Enzo e Medi questa relazione tra i due probabilmente sicuramente certamente la diversità ho sempre pensato che erano due persone che hanno sofferto tanto e si sono unite un po' per combattere assieme le malvagità della vita cioè per me ho sempre pensato che la loro unione era un po' questa di proteggersi e mi ricordo che quando ho iniziato a lavorare con Enzo e con Medi ero abbastanza un po' spaventato perché non dovevo parlare ai gesuiti solamente i miei interlocutori erano alquanto intelligenti e questa è stata la riflessione di dire che loro sono assieme l'aspetto sessuale alquanto e ai margini è semplice si parla di due persone che hanno sofferto veramente tanto e si sono unite un po' per proteggersi è un po' l'essenza del film per me è questa poi ognuno può interpretare il film in un modo certamente per questo mi sento confuso perché probabilmente non neanche gli strumenti eppure c'è molta sessualità nelle parole non ti sentiamo no dicevo che la sessualità si coglie invece no per esempio quando si dicono reciprocamente bastardo stronza cioè no in queste parole si coglie proprio il sessuale e si coglie quando per esempio Mary racconta la storia e nel momento in cui lei racconta la scena di seduzione quando dice lui a un certo punto mi ha mi ha preso la nella libreria allora si vede Enzo che mostra le braccia proprio come l'esibizione della mascolinità quelle braccia tutte tatuate muscolose quando gli dice era bello lì c'è proprio un pato sessuale estremamente fine insomma tra i due ma sono d'accordo però che il film non è sulla sessualità perché invece su un rapporto fusionale simbiotico dicevo era il doppio narcisistico l'uno dell'altro però il sessuale c'è anche no certamente c'è anche questo nel caso di Enzo Enzo ci metteva la faccia Mary nel film e la voce guida perché Enzo non era all'altezza cioè il problema per chi fa un film cioè nel mio caso è stato che io conosco molto bene Enzo e la vita quotidiana è ben altra nel senso io spesso mi pongo una questione morale etica quando faccio un film anche come filmare che cosa raccontare in questo film è stata raccontata la storia di Enzo e Mary però c'è anche altro c'è anche altro che non è raccontato all'interno del film che sono le cose di tutti i giorni che non è solamente questo non ha fatto solamente questo poi tutto il resto è interpretazione cioè per chi ha una per chi fa un film c'è uno sguardo sempre diverso poi il tempo ci fa riflettere però quando penso a Enzo e Mary penso a ben altro cioè penso anche a quelle miserie quotidiane che non sono state raccontate all'interno del film e ce ne saranno sicuramente molto prima facevi riferimento non so quanti di voi abbiano avuto la possibilità di vedere un film che Pietro ha fatto subito prima se non sbaglio rispetto a questo qua o no in mezzo hai fatto delle cose sui treni sui treni appunto il passaggio della linea in cui Pietro salendo sui treni di notte soprattutto racconta anche lì un'umanità non indifferenziata nel senso che non è quella della pubblicità non è quella della cronaca dei giornali non è quella che abbiamo noi nella testa e anche lì Pietro dimostra una capacità rara non solo nel costruire le immagini perché l'avete visto Pietro è attentissimo alla costruzione dell'immagine anche quando decide di far parlare finalmente li vediamo insieme perché vedendo il film uno aspetta aspetta Mary ne sente solo la voce come dicevi la voce e la voce guida e anche stando nei vagoni dei treni che vanno tutti metti in una posizione d'ascolto che credo sia molto molto interessante è piena lo dicevi prima giustamente un po' ti conosco ti poni molti problemi di come fare di come non invadere di come non sfruttare cioè di fare tutto quello che la pessima televisione e anche il pessimo cinema a volte fanno anche quando apparentemente con le migliori intenzioni quindi questa posizione d'ascolto di storie delle persone che significa naturalmente un lavoro molto lungo però un lavoro di preparazione di ricerca di attenzione di che cosa inquadrare o non inquadrare come dicevi dicevi prima a me per esempio a me dà molto fastidio essere filmato cioè parto da da me stesso può dare fastidio a me essere filmato può dare fastidio anche agli altri cioè nel caso di Enzo Enzo era un esibizionista cioè per lui amava essere filmato un po' più scendi a sud e più è così già se provi a fare un film in Inghilterra cioè se provi a stare per strada e filmare qualcuno perché comunque è uno strumento aggressivo cioè profondamente aggressivo e dipende dall'uso che fai di questo mezzo in un certo senso bisogna saperci fare cioè per esempio quando viaggiavamo sui treni si viaggiava assieme a tutti gli altri si condivideva il tempo del viaggio si condivideva un panino un caffè si parlava ci si confrontava cioè non si saliva sui treni per filmare e poi andare via cioè spesso specialmente quando quando trasponi la realtà perché io non credo che il cinema è reale credo che il cinema è una trasposizione reale ed è già storia al momento stesso che filmi o racconti qualcosa io tutt'oggi ho una relazione con le persone che ho utilizzato nei miei film per esempio il protagonista del passaggio della linea ha compiuto 95 anni quest'anno credo 94 ora a giugno compiene 94 anni e tutt'oggi sono legato a lui ci sentiamo lui viaggiava sui treni non può più viaggiare sui treni abbiamo trovato per lui un posto dove stare lì in Trentino lo stesso Enzo mi chiama sempre e sono tutt'oggi in contatto con lui poi è molto difficile nel momento stesso che ti affezioni a un personaggio diventa difficile anche cioè è vero il film finisce però in un certo senso le relazioni restano ci sono molte persone molti miei colleghi che per loro è assurdo continuare ad avere una relazione con delle persone che hai utilizzato in un film invece credo che per me è alquanto naturale sia per me che con le persone con cui lavoro se vuole dirvi una cosa ecco prima di poi lasciare magari la parola anche a voi me colpito brevemente alcune cose volevo dirti perché mi sembrava che da quello che fosse uscito anche dai vostri discorsi era soprattutto il fatto che questo film non tratta un argomento specifico ecco questo discorso credo se l'abbiamo fatto in questi nostri incontri soprattutto anche anche ieri sera cioè sul senso poi del film anche nel rapporto col nostro lavoro qui mi colpiva molto intanto quello che avete detto adesso cioè dell'ascolto in qualche modo la capacità dell'ascolto da parte di un cineasta a certi livelli si avvicina anche molto in un certo senso al nostro lavoro che è un lavoro di ascolto di poter introiettare poi tutto quello che noi dalle storie dei nostri pazienti viviamo e poi lo trasformiamo dentro di noi ma anche nella relazione dunque anche a vantaggio del paziente abbiamo detto il cinema non è sicuramente un aspetto terapeutico forse lo ha in parte molti tuoi colleghi ne parlano un po' in questi sensi dal volta cioè fare il cinema essere artisti vuol dire in qualche modo gestire ed elaborare delle situazioni interne anche mortifere forse per noi del pubblico non ha questo stesso valore ma certe volte invece secondo me si avvicina allora io direi una frase che molti nostri colleghi conoscono benissimo ma forse non tutto il pubblico c'era un grande analista inglese il nostro Winnicott che diceva spesso mi dispiace perché quello che io sto dicendo in questo momento un artista l'ha detto prima è meglio di me allora questo film a me mi ha evocato questa frase perché io credo che quest'opera che tu ci hai portato così generosamente ha a che fare proprio con qualche cosa che va al fondo di quella che è l'indagine di questi nostri incontri perché mi sembra che sia un film che va a colpire l'area profonda indeterminata della nostra mente nella quale tutte le contraddizioni coesistono come proprio accade nel nostro inconscio perché c'è una contraddizione che è relativa per esempio all'identità sessuale c'è qualche cosa di una contraddizione relativa all'ambiente si parla delle grandi città e poi si parla delle caverne c'è una contraddizione anche l'elemento in movimento si vede grandi costruzioni ma anche distruzioni torri che crollano c'è una qualche cosa anche dove si sfuma quello il concetto del bene dove comincia il male ecco e poi c'è questa cosa meravigliosa che tu hai introdotto di queste immagini che anche ci confondono all'interno della temporalità allora questa è secondo me nella mia almeno interpretazione suggestione diciamo così come se tu ci hai consentito ecco come un artista soltanto può fare noi cerchiamo poi di articolarlo in termini magari molto più razionali quello che è il nostro mondo profondo e come questo funziona però e questa è la cosa che rende questo film molto molto bello è che in qualche modo non c'è soltanto la contemplazione di questo perché questo lo può fare qualsiasi artista ma l'autore fa qualcosa di diverso ce lo trasmette in una forma che a noi per motivi misteriosissimi di questo ne parleremo nella tavola rotonda di domenica mattina quando vedremo i vari registri che usa il cinema l'arte usiamo noi psicoanalisti quindi il registro dell'immagine dei suoni eccetera eccetera ecco l'artista l'autore riesce in qualche modo misteriosamente a portarci dentro questa dimensione ma in qualche modo potercela fare accettare come se la vita con tutta questa contraddizione avesse un che di eventualmente sopportabile l'ultima scena io l'ho trovata veramente commovente questa scena del passato dove questa donna gioca a mosca cieca su questo litorale mi sembra proprio una metafora proprio una simbologia nitida proprio di quella che è la nostra esistenza che va tu mi sembra questo mi hai trasmesso e te ne ringrazio ecco che qualche cosa quindi possa essere accettato perché però e qui cito ancora Winnie Winnicott diceva l'opposto della morte non è la vita è l'amore allora questo film è un tema secondo me prima diceva giustamente Ancramalia c'è il sesso c'è la libido c'è l'amore nel senso profondo del termine come l'energia profonda che ci consente in qualche modo di sopportare anche la vita in tutte le sue aspetti più distruttivi più negativi e quindi il film ci lascia in tutta questa mi sembra atmosfera però come dire con un'emozione molto molto vitale ecco e questo io penso che è una cosa di cui insomma io non ti sono grato ma credo un po' anche il successo di quest'opera stavo pensando a questa cosa che tutte le cassette che sono state recuperate poi utilizzate nel film perché Enzo e Mary si mandavano queste cassette no? avevano il modo di spedirsi queste cassette c'erano anche delle cassette che erano cassette come dire più forti io poi non le ho utilizzate perché non mi interessava di raccontare quelle cose perché poi chi fa il film sceglie anche da quale parte stare perché non è mai è arbitrario certo però scegli che cosa raccontare e ora pensavo a queste cassette che si spedivano anche queste cassette che sicuramente hai immaginato andiamo a dire se nel pubblico allora dopo tutto c'è qualcuno che vuole magari anche noi facciamo un po' alla fine di questi nostri incontri magari intervenire e dire un po' la sua impressione la sua sensazione ecco qui davanti Stefano Schoffi ti voglio posso dire un fotografo infatti ti volevo fare una domanda un po' prettamente tecnica cinema fotografica sulla scelta delle luci perché sia in interno che in esterno sembra di stare sempre di notte almeno nella maggior parte delle scene volevo una tua descrizione e impressione su questa riflessione guarda io ho sempre utilizzato il mezzo lo strumento del documentario perché per me è stato sempre il mezzo più accessibile per fare cinema per la per la sua economia e così ho imparato a fare cose cioè in quella circostanza lì non avevo le luci non avevo neanche la possibilità di utilizzare le luci perché diciamo io per il mio lavoro ho imparato anche a montare in camera perché quando sei abituato a lavorare su un imprevisto e con Enzo era sempre un imprevisto anche se poi c'è stato un percorso come dire che alla fine lui ha imparato anche è cambiato i suoi comportamenti erano cambiati i movimenti e tutto però ci sono voluti anche sette mesi otto mesi non ho mai utilizzato delle luci perché non avevo la possibilità neanche di montare delle luci in quelle circostanze anche se poi per me i bianchi sono bianchi e i neri sono neri c'è un c'è anche uno storico una domanda regista di questo film straordinario io volevo una curiosità il rapporto con la committenza cioè il tema il soggetto l'ha scelto lei come vi siete incontrati con San Marcellino come raccontavo prima loro hanno visto il mio film il mio film precedente il passaggio della linea questo film elegiaco sui treni nella notte in Italia è così che sono rimasti colpiti molto da questo film il passaggio della linea e dal mio film precedente un piccolo film La baracca che è un film che ho girato a Napoli molti molti anni fa è così che mi hanno invitato a Genova a realizzare La bocca del lupo mi hanno invitato a Genova mi hanno offerto degli appartamenti e dei soldi e in un anno abbiamo realizzato questo film e chiaramente sono stato seguito da loro sotto tutti gli aspetti loro erano sempre con noi ci confrontavamo con loro ma per loro era importante raccontare quel territorio dove quotidianamente operano sono rimasto subito colpito da questa fondazione perché è una fondazione che lavora nell'Angiporto di Genova dal dopoguerra in poi hanno iniziato a lavorare con i senza tetto gli sfolati poi i raminghi i marinai che restavano a Genova e sono rimasto colpito anche da questa fondazione perché sono circa 7 mila volontari e la dice lunga sono le persone molto serie molto serie mi hanno lasciato completamente libero io ho potuto fare quello che volevo degli interlocutori intelligenti delle persone molto intelligenti per me è stata un'esperienza molto importante sia per sia per la mia perché sono cresciuto in questa esperienza sono cresciuto molto e tutt'oggi sono in contatto con loro mi piacerebbe fare altre cose con loro perché sono dei produttori straordinari sarà che non hanno esperienza come produrre un film di industria però sicuramente è stata un'esperienza molto bella io ho sentito anche molta Sicilia in questo film e quindi volevo chiedere quanto era una mia sensazione a parte l'apertura che si parte proprio da Garibaldi e dalla partenza dal porto di Genova per arrivare in Sicilia mi sembra che poi il film si chiude con queste scene di ritorno alla terra e quindi alla terra e queste scene bucoliche mi ricordano ci sono queste scene di contadini di animali quindi mi sembra che il cerchio si chiuda rispetto a questo ritorno all'originario a questa terra a questo accento che quest'uomo non ha poi neanche mai perso perché nel suo eloquio si sente molto quindi sì c'è molta Genova però mi sembra ci sia molta terra e molta Sicilia non so se volevo avere qualche diciamo la Sicilia sì sicuramente perché Enzo è nato in Sicilia anche se è cresciuto è cresciuto nel quartiere dell'Angiporto cioè riguardo alla casa questo sogno e la casa in campagna anche io ho sempre sognato una casa in campagna è un po' un sogno collettivo quello di avere una casa in campagna poi c'è chi chi non ama la campagna io per esempio amo la campagna tanti miei amici amano la campagna per me è un po' un sogno collettivo anche se Enzo mi diceva sempre questa cosa della casa in campagna poi non c'è riuscito perché Enzo non resiste neanche due giorni in campagna immagina di vivere in campagna ma non è così riguardo a quarto dei mille probabilmente è la parte che amo di più del film normalmente a me mi chiedono sempre quello che succede nel frisco che quando ballano che probabilmente è la parte che non amo del film che poi la parte che tutti amano del film che spesso mi dicono la parte quando ballano al frisco che si divertono tutti mi chiedono sempre del frisco bar la scena quando Enzo balla e va via con quella ragazza che poi in quella circostanza lui andò realmente via con quella ragazza cioè non c'era nessuna messa in scena lui andò via con le chiavi e mi ricordo che quando Mary vide il film si incazzo pure perché Mary non c'era a Roma e lui portò questa ragazza a casa sua e lui andò via proprio in scena che era lì perché erano completamente ubriachi si dimenticarono di me l'operatore il fonico e lui andò via in scena cioè è stato realmente così non è la parte che amo di più del film anche se molte persone amano quel ballo che fanno con la musica di Gesburgo la parte che amo di più sono le caverne sono le grotte di quarto dei mille sarà che è un posto che ha molti significati perché Enzo e Mary sicuramente potevano essere due personaggi dei mille partiti da quarto in un certo senso lì in mezzo c'era di tutto non so un posto che amo molto un posto che amo particolarmente tutte le volte che torno a Genova ritorno su quegli scogli è una zona che amo tantissimo sono molto attratto da quel posto non so perché per quale significato ma non so neanche a chiedere intanto complimenti a te per la tua sincerità estetica un film stupendo e anche a questi frati cappuccini sono dei veri cinefili gesuiti sono dei intelligentissimi dei cinefili magari forse da così tutti i produttori averti scelto vuol dire aver fatto una grande operazione volevo farti due domande una sul il testo introduttivo e anche finale mi pare di aver letto nei titoli di coda di Franco Fortini però è la chiosa finale Franco Fortini c'è una citazione di Franco Fortini anche all'inizio quanto hai costruito tu quanto è un testo anche molto molto interessante molto molto pregnante e l'altro discorso è quello delle immagini di repertorio il loro utilizzo che mi sembra aver superato addirittura il semplice didascalismo di un racconto su Genova ma entra proprio nella psiche non solo dei personaggi ma dello spettatore sul discorso sociale di questa trasformazione della città con delle immagini fortemente oniriche io le ho trovate al di là del realismo che possono avere le immagini di repertorio un effetto oniroide all'interno del film che ha dato ancora più spessore a tutto il racconto di questa civiltà al limite tra il mare la città la spiaggia le grotte e quindi ho visto in questo una grande profondità estetica per me il cinema è innanzitutto forma e poi contenuto cioè il contenuto siamo noi che portiamo i contenuti però principalmente riempirsi la vista e forma il cinema poi spesso io sono spesso in conflitto con i documentaristi perché loro esaltano il contenuto e la forma ha un valore secondario invece per me la forma è tutto nel senso si è persa anche una relazione con la letteratura con la pittura prima c'era uno si relazionava nel cinema fino a non so 30 anni fa c'era una relazione con la pittura anche ora forse è passato molto più tempo non so però comunque le origini del cinema c'era una relazione un regista si relazionava alla pittura anche alla storia dell'arte come lo era anche per la letteratura oggi non è più così cioè sono pochissimi gli autori che continua così però riguardo al testo sono stato un po' costretto a scrivere il testo in corso d'opera perché normalmente ho questa abitudine che giro e monto parallelamente se non che ritorno a filmare poi il testo un po' l'ho scritto pian piano ho iniziato con il prologo poi ho scritto l'intermezzo e per finire l'epilogo è stato scritto un po' così di getto l'altra domanda riguardo ai repertori riguardo ai repertori no mi hai già risposto dicendo che non vuoi fare un mero documentarismo riguardo ai repertori sicuramente c'è gente che lavora da tanti anni sui repertori bravissimi spesso mi hanno detto questa cosa innovativa dei repertori non c'è niente di innovativo ci sono autori dell'est che lavorano su queste cose da 50 anni nel senso non mi sono inventato niente poi ognuno lo fa come vuole no 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 io volevo dire volevo dire una cosa mi sentivo abbastanza frustrata del fatto che non si parla di queste nuove identità di genere era un po' il tema anche a parte il film meraviglioso che io penso che era talmente bello che ovviamente come dire ha preso tutto il nostro pathos il nostro spazio però mi chiedevo se non c'era anche qualcos'altro oltre a questa questo bellissimo film che in effetti è alle risposte di Pietro Marcello che sono molto affascinanti però mi chiedevo se non c'era appunto anche come dire una negazione di tutto questo argomento che poi in fondo in qualche modo abbiamo tentato di tratteggiare sì è vero il film non ha molto a che vedere ma poi di fatto ha che vedere perché è un film che si declina in tanti modi ha questa mitopoiesi aperta quindi e allora ecco questo era un po' il discorso cioè queste nuove identità di genere veramente ci lasciano abbastanza muti ci lasciano abbastanza sgomenti certo c'è una domanda in cima? vorrei fare una domanda io a un certo punto ho avuto un sussulto quando mi sono reso conto che si raccontava una vita vera intima esposta diciamo così alla luce del sole non era una storia creata questo lei come lo vive? cioè il fatto di mettere in pubblico una vita vera privata appunto un senso di mi riferisco a regista veramente ma guarda per esempio l'intervista che tutti pensano un'intervista non è un'intervista alla fine è una confessione perché quella confessione è avvenuta dopo sette mesi circa è stato un momento che Mary era pronta a raccontarsi perché lì io non ho fatto nessuna domanda semplicemente mi hanno chiamato ero io e il mio fonico siamo andati a casa con Enzo e Mary e loro erano pronti a raccontarsi è stato così c'è anche la storia della madre che non compare c'è la storia della madre che non compare e chiaramente io ho scelto di raccontare solamente la storia di Enzo e Mary non mi è sembrato il caso mi sembrava giusto non mettere quella roba e lì loro erano pronti a raccontarsi hanno scelto di raccontarsi in quel momento dopo sette mesi erano passati sette mesi perché un po' avevo anche ottenuto questa fiducia perché le cose non avvengono così da un giorno all'altro non è facile c'è voluto tempo in particolar modo con Mary perché Mary era Mary è cresciuta a Roma in una famiglia borghese conformista una ricca famiglia anche romana e lei è scappata via perché era un po' un'onta per la famiglia è scappata a Genova dove c'erano le prime comunità di transessuali erano a Genova e Napoli perché erano le città di mare le città portuali e diciamo lei è rimasta anche borghese a differenza di Enzo che era un residuo un residuale di un sottoproletariato scomparso diciamo che quello che mi è sono rimasto colpito in particolar modo da questo da quest'unione di classi sociali perché Enzo è veramente cresciuto scalzo per i vicoli e Mary cresciuta via delle milizie cioè era un po' e Mary spesso si vergognava anche di Enzo cioè si vergognava di lui perché questo impeto questo carattere così esuberante a Mary non piaceva affatto si vergognava di Enzo spesso per questo suo modo di fare riguardo a Mary Mary ha fatto tutte queste scelte però poi è rimasta anche profondamente borghese e moralista riguardo a certe cose diciamo spesso il conflitto era anche questo tra i due riguardo alla confessione finale sono stati loro a scegliere di raccontarsi in quel modo perché come tendenza io non spingo mai così tanto cioè faccio un cinema di osservazione posso per esempio nel film c'è la messa in scena di lui che porta questo cero alla Madonna della Guardia perché lui mi ha raccontato la storia che realmente portò questo cero alla Madonna della Guardia allora io ho ricostruito una sequenza che racconta di questo cero che poi anche all'interno di interviste c'è lui che racconta questa storia che portò questo cero alla Madonna della Guardia allora credo che abbiamo soltanto qualche minuto stiamo in chiusura se c'è ancora qualche domanda altrimenti c'è anche un breve corto fatto da lui mi sembra averlo visto ma tanti tanti anni fa c'è un corto questa storia d'amore tra due carcerati tra due ergastolani lui è stato in carcere no? C'è molti anni liberato da Sartre da un movimento lo conosco ho letto anche parte e lui ha girato un corto di sette otto minuti famosissimo in bianco e nero proprio ambientato nel carcere ma credo di averlo visto ma veramente avevo vent'anni a me mi ha ricordato molto questa intensità di sentimento tra i due le storie poi ha scritto anche Ozzor Venianz una pièce teatrale dove ci sono palla di neve e un giovane di cui il nero il uomo di colore è innamorato e un carceriere ci sono storie fortissime quindi però io sono rimasto colpito molto da questo film insomma mi fa piacere voglio anche rivedere questo questo filmato sì è come un archetipo forse meno intenso non lo so però è Gianni Garco un attore quindi grazie va bene io allora credo che dobbiamo veramente chiudere io ringrazierei intanto voi che siete intervenuti a questo nostro incontro i nostri ospiti che ci hanno così intrattenuto e come faccio al solito vi ricordo che domani comincia questo weekend molto molto denso dove ci saranno due tavole rotonde una domani mattina con la Cristina Comencini e questo filmato fatto da un nostro collega sulla storia della psicoanalisi nel cinema molto bello lo schermo opaco poi nel pomeriggio avremo prima questo film la solitudine dei numeri primi con il regista con Savio Costanzo e poi l'altro film della serata sempre con il regista con Andrea Molaioli il gioiellino verranno commentati sempre da nostri colleghi Giovanni Foresti Stefano Bolognini che è il presidente non solo della nostra società ma anche dell'IPA poi domenica invece avremo ancora una tavola rotonda e due film nel pomeriggio ma ne riparleremo ancora domani lasciatemi ricordare pure perché chi viene domani mattina troverà il bookshop aperto e lo dico perché c'è una rivista a noi molto cara che potrà essere vista, acquistata anche del bookshop perché è l'unica rivista veramente italiana che si occupa del rapporto tra cinema e psicoanalisi e porta avanti danni un discorso a noi molto caro molto importante grazie ancora a voi tutti ci vediamo domenica grazie a tutti 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 grazie a tutti